Ah, eh? Alalalala! Sapete chi mi fa ridere? Tutte quelle persone, hater, che leggono gli screen che pubblichiamo o conversazioni che i nostri studenti hanno sulla tensione sessuale con ragazze? Tipo questo! Bello aggressivo, massiccio. Mi piace metterlo. Quando i vermi scoppiano il cranio perché pensano che non sia vero. Appunto pensano che siano fake. Cose fuori luogo a tratti, bambinesche. Sento uomini che scrivono magari non fake, a volte scrivono anche 2 a 15 anni. Ma tu hai mai scritto ricevuto messaggi del genere da una ragazza? Accettati di buon grado? Ai 15 anni? Quindi può essere invidia la loro? No! Questa è una premessa che dovevo fare per introdurre tutto ciò che vedrai qui. Perché sono sì tutte frasi trash, occhio, cringe e tutte le altre parole che hai imparato navigando sull'internet. ma ad un certo punto funzionano e basta e a me piace essere trash quando la situazione lo richiede perché alla ragazza piace che io sia trash funzionano perché hai incuriosito di testa e attratto la ragazza e a lei piaci quindi sei ad un primo appuntamento o dal vivo ad una festa ma anche in chat, magari sei riduce dal nostro corso dal vivo inizia a conversare con la ragazza e hai valanghe di materiale su questo nel nostro canale, la senti attratta ecco alcune domande sessuali dirette e indirette che puoi fare c'è del silenzio, magari c'è la classica pausa e tu domanda quante volte hai pensato di baciarmi da quando conversiamo? spesso quando avverto che piaccio ad una ragazza tanto perché quando diventate bravini lo capite subito io gli dico anche di punto in bianco comunque io ti piaccio questo sorriso qua se ti sto prendendo in giro a lei non lo sa anche in chat lo faccio e a volte rincaro specie quando loro negano mi piace quando negano mi dicono no, no, no ti sto conoscendo, sei interessante e la guardano per dire sei certo e quindi a volte rincaro comunque io ti piaccio proprio tanto ti piaccio proprio ciò che mi sbraneresti come un cosciotto di pollo ecco e ridono e ridono e poi giungo bene così no, no, ma mi fa piacere bene così altra domanda scomoda con quante donne dovrebbe essere stato andato a letto il ragazzo ideale per te sei una che dà importanza ai numeri quindi deve avere avuto tantissime partner ti senti sicura oppure il meno possibile di quale scuola di pensiero sei con quanti uomini hai fatto sesso io sono uno che ha la sua teoria la teoria sarebbe che mi piacciono le ragazze che sono andate con poche persone questo è un ottimo modo per entrare di più in connessione emotiva e sessuale occhio ma perché continui a guardarmi le labbra? lei no, ma... ma vuoi baciare? lei dirà no ed è bello che dicono di no ragazzi diranno sempre di no e tu? no? tu lo sai tu sai mantenere il sangue freddo qua la guardia dice no mi sorriso ragazzi io sto io so già tutto peccato mi aspettavo una risposta diversa altra domanda ma una donna tu per esempio guardi porno secondo te altra domanda eh secondo te qual è la mia specialità della casa? per specialità della casa chiaramente si intende quello che riesce meglio a letto ragazzi per molti di voi che si incartano in messaggi d'esordio questa roba è nociva ed è normale che vi sembra utopica è impossibile da attuare ma se ci fate caso in alcune interviste in forma delle donne è nostro spesso quando faccio una domanda ad una ragazza nell'orecchio magari si sta parlando di un topic sessuale io gliela faccio questa domanda qual è la tua specialità della casa? a ragazze che spesso non conosco e ho visto un quarto d'ora prima per la prima volta e quindi le dico qual è la tua specialità della casa? tutte quante dicono il pompone eh sei una che si arrabbia cioè tu ti arrabbieresti se noi fossimo insieme e non facessimo sesso tutti i giorni cioè come la vedi qua? tutti i giorni due volte a settimana tre, quattro, cinque, sei ragazzi questo è un video ghiotto eh ghiottolino ghiottolino buonanotte grazie a tutti